Ferro azzurro ama Anacota Aciai, Anacota Aciai, 10.000 Anacota 46 e fammi sapere come aprono le opzioni. Mr. Trend, consigli di economia e finanza per tutte le tasche su RTP. Gli spazzasoldi vanno e vengono con ogni mercato al rialzo, i sistematici seri recuperano ogni ribasso. La campana, la campana del lunedì mattina, salutiamo subito Mr. Trend che è qui con noi, Mr. Trend, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone, buon rientro, abbiamo fatto settimana scorsa un po' di vacanze. Eh, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ogni tanto siamo umani, no robot, ci fermiamo, passiamo un po' di tempo con la famiglia, con gli amici, con la nipotina, mi sembra. È ancora possibile fermarsi, secondo lei, Mr. Trend? Assolutamente sì. Meno male. Uomo batte macchina 1-0, ragazzi. Vabbè, meno male. Ricordatevi sempre che basta schiacciare il tasto on-off e la macchina non va più avanti. Giusto, io sono pienamente d'accordo con lei, Mr. Trend. Iniziamo con la filosofia oggi, non lo so, vabbè, insomma, no, vediamo di parlare con il nostro... Anche perché qualcuno, beh, qualcuno dice che il denaro non dorme mai, mi fermo. Assolutamente, ma lui non dorme mai, è un problema suo, non è un problema nostro. Grande, Mr. Trend. Allora, direi che ci sta un saluto a Matteo Astolfi, che è Country Head of, in Italy, di M&G. Buongiorno, Matteo Astolfi. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quindi, lasciando stare questa parte iniziale filosofica su se dormiamo o non dormiamo, l'uomo batte la macchina, direi che a questo punto Matteo Astolfi è quel, diciamo, posso dire il capo in Italia di M&G? Sì, sì, assolutamente, è corretto. Per cui a questo punto mi sembra, ecco, una breve presentazione sull'azienda M&G e quindi, vabbè, chiaramente siamo nel settore del risparmio. È il nostro ultimo appuntamento prima del settore del risparmio, per cui temi caldi, ecco. Sì, temi assolutamente caldi. La società, in effetti, nasce in Inghilterra, a Londra, nei primi del Novecento, quindi abbiamo una lunga storia alle nostre spalle. Da questo punto di vista ci fa piacere essere qui nella settimana del Salone, che è un appuntamento, direi, l'appuntamento più importante in Italia per gli addetti al settore, all'industria del risparmio gestito. Le iniziali della società M&G, curiosamente, volevano significare Municipal and General, perché gestivamo, ai primi del Novecento, in Inghilterra, le municipalità locali, quindi proprio i singoli comuni, le singole province dell'Inghilterra. Nel 1931 la società lancia il primo fondo di investimento in Inghilterra e poi, veniamo agli anni più recenti, solo nel 2003-2004 abbiamo aperto in Italia insieme ad altri paesi europei. In Italia è la nostra presenza ormai da oltre dieci anni, abbiamo un team basato a Milano di 20 persone, abbiamo circa oltre dieci miliardi di Euro in gestione in Italia, quindi i risparmi che i risparmiatori italiani ci hanno affidato e di cui volentieri ci impegniamo al meglio per gestire. Anche la presenza a questo punto di Matteo Stolfi all'interno di M&G non è recentissima, forse non è dall'inizio ma comunque da un po' che è in azienda. Io personalmente sono da otto anni, quindi dal 2008, un anno che tutti ci ricordiamo come l'anno della grande crisi, quindi è stato subito un periodo impegnativo e quindi ho fatto otto anni giusto due mesi fa a febbraio. Ecco, quasi una candeline allora in diretta, spegniamo le candeline allora in diretta. A questo punto è una domanda così, forse spontanea dal discorso 2003-M&G, si sposta in altri paesi dell'Europa, domanda di curiosità, il peso dell'Italia all'interno dell'azienda com'è? Il peso dell'Italia è molto importante perché noi rappresentiamo, grazie ai risparmiatori italiani, siamo il secondo paese al mondo più importante per la società dopo l'Inghilterra. Quindi un grande successo, un grande riconoscimento dai colleghi di Londra per il lavoro che abbiamo svolto con i colleghi del team italiano e sicuramente scegliamo ancora molte prospettive nel mercato italiano. Ricordiamo che la propensione al risparmio del popolo italiano è tra le più alte al mondo in assoluto. Per cui il terreno allora è fertile, ecco, quindi, giustamente. Sì, diciamo che anche per dare qualche numero, qualche idea, oltre 300 miliardi che gestiamo, questi 10 che gestiamo dall'Italia, gli altri paesi sono abbastanza staccati. Si vedono la Spagna, la Francia, la Germania vengono decisamente dopo l'Italia nel mondo MG quanto a risparmi dei singoli paesi. Quindi siamo molto contenti dei risultati, ma come dicevo e come cercheremo di riaffermare anche questa settimana al Salone del Risparmio, vediamo ancora molte prospettive positive per il mercato italiano tenuto conto di tutto lo scenario finanziario internazionale. Allora, a questo punto, ecco, due parole, ecco, sul, diciamo, ecco, sull'importanza, l'obiettivo della trasmissione di Mr. Trend, in effetti il primo punto forse è veramente quello di riuscire a fare educazione. Ecco, le interviste che facciamo con i nostri ospiti sono proprio quello di riuscire attraverso anche le parole dei nostri ospiti di fare sia educazione che chiaramente, ecco, far avvicinare il mercato, ecco, di chi gestisce i propri denari al radioascoltatore, quindi ecco, una radio generalista in modo tale che più si è conoscenza di chi fa al meglio questo mestiere e sicuramente più si ha confidenza. Buona idea del Salone del Risparmio, ecco, MG è impegnata magari in altre attività di educazione finanziaria o comunque che idea ha MNG di quelle che sono poi tutte le attività di educazione finanziaria per il risparmiatore? Arrivando anche da Londra dove la cultura del risparmio, me lo dico io, è un po' più alta rispetto in Italia, penso. Ma sì, diciamo che tra i motivi per cui siamo ottimisti sulla possibilità, le potenzialità del mercato italiano è anche in buona parte legato proprio all'educazione finanziaria. Pensiamo ad esempio che, questo arriva da decenni di investimenti proprio in educazione e pensiamo che molte professioni in Inghilterra, una infarinatura, una cultura di base abbastanza semplice ma comunque importante in altri paesi, in Inghilterra in particolare sia abbastanza presente. Laddove in Italia solo recentemente ci sono state alcune iniziative interessanti tra cui anche sicuramente quella del salone per cercare di diffondere un pochino di più la cultura finanziaria e la cultura finanziaria va poi di pari passo anche un pochino con l'orizzonte temporale. Noi distinguiamo sempre, cerchiamo di far ragionare anche i nostri clienti sulla differenza tra lo scommettere e fare trading di breve periodo e invece investire a lungo termine. Sono due concetti molto diversi, noi ci avvaliamo e cerchiamo di fare il meglio su un secondo di questi due diverso è fare trading di breve periodo o piccole scommesse, un piccolo cabotaggio e su questo devo dire che l'Inghilterra effettivamente da tanti anni che hanno investito cercando di diffondere la cultura finanziaria un po' a tutti i livelli a partire dalle scuole anche elementari, medie e poi liceo e così via. Un sogno per l'Italia forse, un sogno per l'Italia, se dalle scuole riusciamo a… Ma è un sogno però tante volte poi i sogni si possono avverare, quindi siamo qui uno dei nostri compiti istituzionali e anche proprio questo, quello di cercare di diffondere il più possibile una cultura dell'investimento a lungo termine che si differenzia e si possa distinguere invece appunto dal trading e dalla scommessa di breve, non sto dicendo che uno debba per forza sopraffare quell'altro, si tratta di due tipi di attività molto diversi dal nostro punto di vista. Assolutamente sì, dico sempre non andiamo in giro vestiti tutti con gli stessi abiti, non andiamo tutti in vacanza nello stesso posto, quindi c'è chi preferisce la montagna, chi preferisce il mare, chi preferisce vestiti eleganti, chi preferisce vestiti comodi, quindi uno non annulla l'altro, forse ecco però bisogna riuscire ad avvicinarci a quello che forse è il sistema, il metodo di investimento che più forse si avvicina ai nostri, ai nostri caratteristiche senza pensare che, questo lo dirò fino a stancare i nostri ascoltatori, non è automatico poi quelle che sono le pubblicità che facciamo trading e quindi guadagniamo i soldi che ci pensano di chi fa trading per mestiere e ci sono, sono pochi, pochi che hanno risultati e non vediamo anche questa cosa qui come l'uovo dalle grine d'oro. Poi se noi siamo persone che abbiamo in effetti altri mille lavori e abbiamo anche del risparmio, forse se poi ci affidiamo a consulenti, promotori e quindi a società che gestiscono i nostri denari forse meglio e che ne sanno un po' più di noi senza farci falsa illusione. Diciamo che uno dei concetti sempre alla base del nostro lavoro è quello molto semplice, cerco di banalizzare ma per... No, no, ci sta, arriviamo con messaggi chiari che poi sono più efficaci. E' sempre quello di non mettere tutte le uova nello stesso paniere, ricorderò sempre da piccolo una persona che accompagnava dei bambini che era appena andata appunto a fare la spesa e scivolando sul ghiaccio ha fatto la frittata. Cerchiamo di non mettere tutte le uova nello stesso paniere perché rischiamo altrimenti di fare questa frittata e alla fine non avere i risultati sperati. Cerchiamo di differenziare, di diversificare i nostri investimenti su titoli, asset class, azioni, obbligazioni su un po' tutti i mercati del mondo perché nel nostro mestiere vediamo sempre molto spesso un'attività che chiamiamo l'orientamento sul mercato, sul settore che si conosce, per cui ad esempio un lavoratore nell'industria tecnologica è portato a investire in aziende tecnologiche perché crede di conoscerle di più, è sicuramente vero ma rischia magari di perdersi delle occasioni da altre parti. Quindi cerchiamo di avere investimenti a lungo termine ben differenziati e ben diversificati tra di loro, non mettere tutti gli investimenti in un unico basket, in un unico paniere e cerchiamo di avere una buona diversificazione affidandosi sia a diversi distributori ma anche a diversi gestori del risparmio. Io qua visto che siamo in epoca social metto un mi piace a quest'ultimo commento perché veramente se arriviamo, di solito sono i risparmiatori italiani poi o investi in titoli di stato italiano o investi sulla borsa italiana, non c'è solo quello ecco, per cui oggi forse abbiamo la fortuna di poter arrivare se non direttamente ma indirettamente attraverso società come M&G a mercati che sono mercati internazionali, ovviamente io quando ho iniziato a entrare nel settore c'era qualcuno che diceva ok sai leggere quello che è il listino della borsa cinese o della borsa di Shanghai, no e ci sarà qualcuno che sa leggere la posto tuo, non sta a preoccuparti, se quel mercato può essere interessante lascia stare di leggere quali sono i titoli magari scritti in cinese, questo assolutamente. Mi ha incuriosito un attimo, tornando al discorso del Salone, anche il tema della vostra conferenza che era i vantaggi offerti dall'investimento di lungo periodo in imprese sostenibili. Sì, diciamo che quest'anno porteremo al Salone mercoledì in ora di pranzo proprio il gestore che da noi sul desk di Londra più di tutti gli altri adotta anche un approccio diciamo molto attento alla finanza sostenibile, è uno dei criteri che il gestore di origine danese viene da Danimarca, Copenaghen, ha portato e porta all'interno dei suoi due portafogli lui gestisce un fondo azionario globale e un fondo azionario europeo, è proprio anche uno screening iniziale quindi cercare di individuare le aziende che siano attente in prima battuta a fattori cosiddetti di finanza sostenibile, quindi a fattori ambientali, fattori anche sociali, fattori di gestione corporate governance della società. Tengo a precisare che non sono gli unici fattori che lui monitora e controlla, fanno parte integrante del suo processo di investimento, quindi per selezionare un'azienda che può entrare sia nel fondo azionario europeo che nel fondo azionario globale, deve avere questi fattori assolutamente al suo interno. Direi a questo punto perfetto, anche perché è forse una sensibilità nuova che è giusto che anche il risparmio gestito abbracci e apprezzi. Un'altra cosa che mi ha incuriosito della vostra società. Non è quanto un abbracciare a fini propri per se stessa, in quanto è legata al fatto che abbiamo visto che storicamente molto spesso aziende che sono attente a questi temi sono poi le aziende che possono dare potenzialmente i migliori ritrati anti-borsa, quindi c'è sempre nell'ottica il miglior servizio possibile al cliente finale. In questo caso, del gestore John William Olsen, il fondo M&G Pan-European Select e l'M&G Global Select è assolutamente una parte importante del processo di selezione dei titoli. Perfetto. Invece una curiosità, per quanto riguarda le vostre strategie multi-asse, cioè è un nuovo approccio o il risparmiatore ha bisogno di qualcosa di diverso oppure date un servizio diverso? Allora, negli ultimi anni si è un po' diffuso questo termine multi-asset che significa semplicemente investire in diverse asset class, quindi essenzialmente azioni, obbligazioni, liquidità, eccetera. Una volta si chiamavano bilanciati. Che cosa è cambiato e che cosa è un po' diverso nel nostro approccio? Il fatto che abbiamo visto negli ultimi anni molte di queste classi di attivo azioni e obbligazioni in alcune fasi si comportano in modo molto simile, quindi ad esempio quando le borse scendono, scendono anche i titoli di Stato, scendono anche obbligazioni governative e si fa fatica a cercare e a trovare attività decorrelate, come dicevamo prima, che si differenzino e si distinguono tra di loro. Quindi nel nostro approccio abbiamo cercato di importare da scienze diverse dalla nostra, diverse dalla scienza delle finanze e mi riferisco alla psicologia degli investitori, quindi a scienze più di tipo umanistico e comportamentale, la psicologia sostanzialmente. Cerchiamo nel nostro approccio ai fondi multi-asset o bilanciati di sfruttare anche proprio la psicologia degli investitori, essenzialmente ai due estremi si trovano da una parte il panico e la paura, dall'altra l'euforia e cercando di sfruttare questi episodi che si verifichano nei mercati, molto spesso abbiamo avuto la possibilità di andare a investire in classi di attivo azioni e obbligazioni che magari per proprio panico e paura erano completamente dimenticati da gran parte del mercato. Vediamo se riesci a farci un esempio al volo di una situazione in cui c'è stata la possibilità da parte vostra di M&G di sfruttare questa situazione, quindi questa psicologia sugli investimenti? Diciamo che l'approccio si basa su tre elementi fondamentali e posso citare ad esempio recentemente è stato il lunedì nero del 24 agosto del 2015 l'anno scorso, quando ad esempio la banca centrale cinese ha svalutato la valuta cinese, questo ha creato molto panico sui mercati perché tutti si sono chiesti aiuto, paura, se la banca centrale svaluta la moneta vuol dire che la Cina sta rallentando più del previsto, cercano di diventare competitivi attraverso il cambio, quindi questo è il primo elemento, focus di tutto il mondo finanziario su un'unica notizia, in questo caso la notizia ad agosto dell'anno scorso era la svalutazione della moneta cinese, il secondo elemento episodio che caratterizza l'episodio è proprio legato al fatto che questo forte focus su un'unica notizia per tutti gli operatori del mercato determina tipicamente un forte e veloce movimento dei prezzi, quindi nel caso specifico ci ricordiamo bene agosto dell'anno scorso era solo sei mesi fa, rapido cambiamento del sentiment, panico e paura che si è sviluppato sui mercati e i principali indici delle borse mondiali hanno perso tra il 10 e il 20% nell'arco di una settimana 10 giorni al massimo, secondo elemento quindi rapido movimento dei prezzi, ma il terzo elemento che va tenuto in considerazione è che questi due primi elementi, il focus su un'unica notizia e il rapido movimento dei prezzi non sono, in questo caso non erano secondo noi collegati a un cambiamento dei fondamentali, cioè il fatto che la Cina stesse rallentando era già noto, si è semplicemente diffuso il panico e la paura per problemi di psicologia degli investitori e noi abbiamo ritenuto che a fine agosto molti dei prezzi che erano stati svenduti di molte azioni in Europa occidentali negli Stati Uniti che risentivano molto poco anche di un eventuale rallentamento cinese, erano stati eccessivi e da questo punto di vista quindi abbiamo aumentato l'esposizione ad alcune classi di attivo come azioni del mondo occidentale che poi si sono rivelati in effetti interessanti perché tra fine agosto e prima di settembre il mercato è non toccato i minimi e sono poi rimbalzati nel corso del mese di ottobre e di novembre. Quindi questo è stato uno degli ultimi episodi tipici che abbiamo cercato di sfruttare. Direi che a questo punto fa anche piacere poi a questo punto che anche aziende specializzate nella gestione del risparmio poi abbiano questo approccio anche laterale con altre scienze per comunque riuscire a dare il meglio di quello che poi è una gestione e quindi quello che poi sono egoisticamente ritorno finanziario sui nostri risparmio. Io ringrazio Matteo Astolfi e Country Head of Italy di M&G, direi che a questo punto grazie e a questo punto un arrivederci poi al salone del risparmio il 6, il 7 e l'8 a Milano. Grazie. Grazie a voi, buongiorno. Arrivederci, grazie mille Matteo, grazie.